Non fatevi ingannare dal mondo, dal mondo, dall'ego, dal shaitan, dai vostri passioni. Nulla di questo per voi, non vi daremo mai nulla. Nulla per voi da qui. Nulla. Niente. Qui ci possiamo mettere il timbro sopra. Bahloul, Harun al-Rashid, ha amato il suo figlio, perché era un santo e un uomo di saggezza. E se nessuno poteva dargli un consiglio, quello giusto, Bahloul gli dava il consiglio giusto. E poi ha detto a lui, diventa il mio grande vizier. E lui ha detto, Bahloul ha detto, grande vizier? Si, grande vizier. Buongiorno. 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 Ma tu sei il mio grandio? Sì. Balul ha detto, che devo pensare su. Haruna Rashi ha detto, che vuol dire pensare su? Sì, devo consultare a chi ti deve consultare, io sono il sultano il tutto l'Empire a chi vuol consultare, mi deve consultare. A chi vuol consultare, gli ditevi di consultare, vieni con me. Produe con lui, tutti gli altri ministri, e dietro al sultano vengono tutti i ministri, tutta la porta tutti in piedi dietro al sultano Bahalûl ha detto come, come, come so they are going, everyone we don't know where he's going come, come, he's going out of the door coming into the big courtyard or the palace attraversano la piazza lì fuori e tutti la corte dietro come una processione che si vuole consultare e poi si prende la direzione del gabinetto e la direzione era quella del gabinetto e si ferma davanti al gabinetto privato di Harun Arashid e si ferma la porta anche tutti e si chiede al gabinetto e si chiede al gabinetto privato di Harun Arashid ho una domanda devo consultarmi con te e mi chiede di essere il suo gran vizier cosa ne pensi di questo come il mio voce è il mio voce delle da sotto al basso be careful stai attento be careful be careful I was the most delicious nourishments for Harun Arashid and look what happened to me he said can you see my brother I cannot be there's a clear advice I'm sorry that is what the word is concerned this is what the word is concerned to soften our hearts per rendere più soffici i nostri cuori per ammorbidirli per non essere duro come le pietre per essere soffici soft so that something comes through it there is a meaning of health there is a meaning of health that your heart if your heart is healthy you are healthy make it soft so that the cells of your heart are resonating with the divine light and divine gifts divine vibrations divine frequencies they are recognizing they are resonating as much as you can do use it and use your zikker your remembrance you know you have to do do it then he gives finally he gives as much as you are consistent insisting on your way quanto più insisteremo nella nostra vita un giorno lui darà yes from the seeker you become someone who is found da ricercatore diventerai colui che è stato trovato when he accepts you as a friend when he accepts you as a friend you will be a blessing for your community yes for the reason of you people will be saved because where his friends they are living he's protecting the area for his beloved ones because it's not it's not an easy thing and everyone of you will be like that and everyone of you will be like that yes he's protecting the area 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 he's protecting the area